salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale oggi voglio parlarvi del fattore dell'emozionalità nella vendita è un discorso particolarmente complesso cercherò di ridurlo ai minimi termini cercando di non essere troppo prolisso però bisogna prendere consapevolezza che nella vendita quindi quando acquistiamo qualche cosa una componente importante è determinata dai nostri sentimenti dalle nostre emozioni la vendita è emozionalità d'accordo giusto per un esempio banale che può rendere molto bene l'idea della emozionalità noi decidiamo cosa acquistare dove acquistarlo in base oltre a delle valutazioni personali il costo le prestazioni o altro ma su dei sentimenti su delle emozioni che proviamo delle emozioni che sono consapevoli e inconsapevoli esplicite e implicite facciamo conto di voler acquistare un prodotto di elettronica uno smartphone e di doverci recare in un negozio della grande distribuzione forse ad alcuni di voi sarà capitato di dire o anche solamente di pensare io in quel posto in quel negozio in quella catena di negozi non vado perché non mi sono simpatici oppure in quel negozio lavora una persona antipatica vado da un'altra parte e quindi siete disposti per le vostre emozioni per dare ascolto alle vostre emozioni anche in alcuni casi a rivedere quelle che sono le vostre scelte oppure anche se no anche spendere di più perché portarvi in un posto anziché un altro può determinare a spendere di più o materialmente del prodotto del servizio che volete acquistare o anche spendere di più in tempo nel andare fisicamente da dove vi trovate a un altro posto che è più lontano però non c'è quella persona che vi è antipatica o quel brand che non vi trasmette particolare simpatia la vendita è emozionalità e questa è una cosa che ascolto da oltre 20 anni da quando ho cominciato a fare questa tipologia di lavoro l'ascolto periodicamente e sempre pensate se il mondo delle vendite quindi dei rappresentanti agenti di commercio consulenti non fosse basata sulla emozionalità spesso è proprio il fattore umano è proprio la chiave che riesce a dare il venditore il consulente il rappresentante per la vendita ci sono clienti che acquistano da un rappresentante anziché un altro perché mi è simpatico oppure sono anni che acquisto con lui mi fido di lui appunto questa è un'altra emozione che va presa in considerazione quindi ricordatevi che la vendita non è un processo automatico anche l'affare più allettante più importante se a proporvelo è qualcuno di cui a pelle non vi fidate non c'è una emozionalità positiva beh quell'affare rischia di non concludersi se non vi fidate se non c'è un feeling un trasporto se non c'è emozionalità positiva nel clima nell'aria nella relazione con chi vi sta di fronte questo è qualcosa di veramente ma veramente importante una volta c'è stato un importante formatore che durante un corso di vendita a noi venditori disse una cosa particolarmente importante perché dovete sapere che il mondo dei venditori è fatto di persone che pensano di avere la verità in tasca di sapere tutti quanti i segreti ci sono dei venditori consulenti rappresentanti che sono dei professionisti al top sono dei veri fuori classe altri invece che sono particolarmente presuntuosi nel loro lavoro e in mezzo c'è tutto l'universo dei venditori rappresentanti agenti di commercio questo formatore una volta disse una cosa spesso e volentieri vi dimenticate che il vostro cliente va trattato con i guanti bianchi come li indossa un cameriere una persona che serve qualcuno e soprattutto dovreste relazionarvi non in toto d'accordo ma dovreste relazionarvi con il vostro cliente o addirittura il vostro potenziale cliente perché cliente è colui che ha firmato un contratto di acquisto e non chi lo deve ancora fare spesso e volentieri nel mondo delle vendite si abusa della terminologia cliente anche quando concretamente cliente la persona che c'è di fronte non lo è ancora quindi dovete trattare dovete relazionarvi col vostro cliente o il vostro aspirante potenziale cliente con una posizione atteggiamento di corteggiamento come se doveste corteggiare una bella donna una persona che volete conquistare voi dovete conquistare la fiducia di quella persona affidarsi di voi ed acquistare il bene o il servizio che state proponendo quindi l'emozionalità è veramente importante la fiducia è un elemento molto importante ma fiducia è solamente una delle componenti perché si può essere attratti da qualcuno da qualcosa si può si possono avere tante tipologie di sentimenti nel mondo della vendita e poi soprattutto faccio un esempio che si riferisce al mio ultimo alla mia ultima situazione lavorativa quella di aver collaborato con il gruppo domina per quanto riguarda le comproprietà alberghiere voi immaginate di dover relazionarvi con delle persone che sono in un luogo di vacanza aperta scorrere sette giorni due settimane di relax e doverle convincere ad acquistare qualche cosa che non avrebbero mai immaginato di acquistare perché sono partiti per fare una vacanza e non per poi acquistare durante la vacanza una comproprietà alberghiera quindi in quel caso c'è da trasferire tanta emozione ai potenziali clienti mantenere alto quello che è il livello di interesse dei potenziali clienti per il luogo e le circostanze che li hanno portati in quel posto per portarli a voler desiderare di rivivere quelle circostanze quindi poter poi finalizzare acquistare nel caso specifico una comproprietà alberghiera che li possa poi portare a rivivere quelle emozioni che stanno vivendo in quel momento quindi è molto importante la componente delle emozioni nel mondo delle vendite fatemi sapere che cosa ne pensate della emozionalità e il mondo delle delle vendite se c'è stato un acquisto che avete fatto che è stato determinato da magari un conflitto emozionale perché c'è anche c'è anche questo in alcuni casi abbiamo dei conflitti emozionali che ci fanno esitare per poi arrivare alla decisione di acquistare qualche cosa perché in alcuni casi magari dobbiamo scegliere solamente una cosa però veniamo attratte da due cose quindi fatemi sapere che cosa ne pensate se avete trovato questo video interessante condividetelo iscrivetevi al canale attivate le notifiche mettete un bel mi piace e se vi va se volete potete sostenere questo canale con una donazione in descrizione ci sono i due link uno per un bonifico e l'altro per una donazione paypal per il mio canale unica accortenza come causale in ambedue le situazioni c'è da scrivere la parola donazione io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo video su questo canale che non dovete assolutamente perde nel prossimo nel prossimo ancora 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 una bella cosa andate a vedere anche i video precedenti a a proposito ma vi stanno piacendo sti gameplay di air commander che sto realizzando da mobile io mi sto divertendo con questo videogioco gestione di una compagnia aerea io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video ciao